Nuova diretta, stasera sono felicissima di ospitare Gianluca Ciampi. Buonasera Gianluca. Buonasera. Noi ci siamo conosciuti per un libro che hai tradotto e adesso lo presentiamo subito. Non ci siamo visti dal vivo ma ci siamo conosciuti online, però siamo accomunati veramente da questo bellissimo testo che adesso faccio subito vedere, eccolo qua, questo libro qua, che è anche un po' affaticato a pubblicare. È un libro di Albert Howard, è stato scritto nel 1947 e mancava la traduzione in italiano e quindi tu insieme a tuo fratello che si occupa proprio di fare traduzioni, lo che sia lui l'esperto di inglese, mentre tu sei l'agronomo diciamo che ha potuto mettere le competenze tecniche, insieme avete deciso di fare questa traduzione perché valeva la pena. Tu da quanto tempo conoscevi questo testo per dire che ce l'avevi in testa di pubblicarlo? Allora non tantissimo perché se pensate che io quando ho fatto l'università a Perugia se avessi avuto questo testo anche in inglese semplicemente me lo sarei mangiato, divorato insomma, quindi l'ho scoperto dopo Howard e poi il problema era trovare il tempo per tradurre un testo abbastanza impegnativo, lungo, eccetera e trovare come abbiamo già accennato l'editore. Ci ho pensato in lockdown, in questo periodo tante gente hanno fatto cose, in quel periodo di vuoto, tante persone hanno trovato il tempo di fare cose che desideravano fare da tempo. Allora io saluto tutte le persone che ci stanno già seguendo, altre arriveranno. Parliamo di un libro ma guardate stasera parliamo veramente di cose concrete perché Albert Howard era un signore inglese che ha girato il mondo al tempo in cui la Gran Bretagna aveva tutte le sue colonie attive. lui andava in giro per le fattorie veramente di mezzo mondo a controllare cosa funzionasse e cosa non funzionasse per far crescere bene le piante, quindi faceva anche il bene della sua nazione per tutte le produzioni agricole che erano sparse nel mondo. In questo suo viaggiare, in queste sue sperimentazioni anche che ha fatto, ha veramente dato tantissimi consigli pratici che oggi ci lasciano stupiti. Cioè io leggendo questo libro lo trovo estremamente moderno e mi sono anche un po' meravigliata perché io sto dietro a questi temi da tanto e penso forse un po' diciamo pensando al nostro paese che diciamo il grande cambiamento in Italia è arrivato dopo la seconda guerra mondiale quando appunto da un'agricoltura dei contadini che conoscevano la terra si è passati ad un utilizzo maggiore dei mezzi meccanici e dei concimi chimici e di tutte le altre sostanze chimiche come i pesticidi. In realtà Howard era attivo all'inizio del 1900, il libro del 1947 ed è l'ultima sua opera che poi tra l'altro è scomparso quell'anno. Quindi diciamo che certe problematiche già si vedevano in tante parti del mondo soprattutto in Inghilterra dove sia l'industria arrivata prima e quindi anche le sostanze chimiche erano, c'erano già tante sostanze chimiche a disposizione per fare agricoltura e quindi lui aveva già visto cosa comportasse l'utilizzo della chimica e non erano cose belle. Quindi facciamo intanto una riflessione su questo punto di vista e poi vediamo quali soluzioni lui propone perché lui racconta sia le sue esperienze che le tante cose che ha visto che sono estremamente utili oggi per avere piante in salute poi anche animali in salute e poi anche persone in salute perché è bellissimo insomma tutto l'excursus che lui fa la salute della vita sulla terra, sul pianeta terra deriva dalle buone condizioni del suolo. Ho fatto una lunga introduzione, Gianluca scusami ma... No no ma in fin dei conti è proprio il centro di tutto il libro, è proprio questo però per dare questo centro lui fa una marea di esempi c'è da fare una piccola premessa nel senso è vero che lui ha lavorato per l'impero però lui era una persona che lavorava per l'essere umano fondamentalmente perché pensiamo che fino a pochi anni dopo la gestione dell'agricoltura per l'impero britannico era fatta dalla Compagnia delle Indie la quale ha fatto carne di porco in tutto il mondo tra l'altro gestendo anche guerre e infatti chi ha letto il libro ogni tanto si sente che lui dice sì entriamo ma non come dei ladroni, non come degli opportunisti eccetera eccetera e il ladrocigno più terribile è stato proprio quello della fertilità del suolo perché non c'è niente di più facile che andare su suoli vergini coltivare per 5-10 anni e portarsi via la ricchezza e lasciare quel suolo abbandonato a se stesso e con rischio appunto poi di se non proprio di certificazione comunque di abbassamento della fertilità eccetera eccetera e ha guarda quindi l'impero britannico però si era accorto che la Compagnia delle Indie era andata un po' fuori del seminato e se andiamo a vedere la Compagnia delle Indie è la prima multinazionale che ha esistito nel mondo e il re e la regina insomma a quei tempi c'era il re insomma comunque il regno britannico a un certo punto l'ha esclusa l'ha esclusa perché si è accorta che aveva preso un potere tale che sia economico che anche militare, politico eccetera che diciamo le colonie erano più in mano alla Compagnia che alla monarchia stessa per esempio pochi sanno che il tè che tutti pensiamo che gli inglesi l'hanno scoperto quasi per primi dall'India il tè in India non c'era ah ce l'hanno portato gli inglesi ce l'hanno portato gli inglesi perché lo compravano dalla Cina ma i cinesi glielo vendevano caro e poi con la Cina ci sono stati una marea di problemi guerre, c'è stato tutto il problema dell'oppio eccetera e comunque che loro gli vendevano dall'India ok e praticamente a un certo punto hanno mandato una specie di 007 in Cina che ha iniziato a acquistare di nascosto o rubare piante di tè e piano piano attraversando l'Himalaya c'è un libro che è una storia epica comunque questo ha fatto un ladrocigno e ha portato il tè in India e così via quindi diciamo c'è un mondo il mondo delle piante ha avuto tanti passaggi Howard si è interessato di terreni di tutti i tipi perché chiaramente lui partì dai Caraibi perché da giovanissimo fu mandato nelle colonne caraibiche si lui fa anche un bel confronto tra appunto le situazioni nei vari territori anche appunto caraibici ma anche con la situazione dell'Inghilterra che conosceva bene era figlio di proprietari terrieri quindi conosceva anche le condizioni del suolo inglese poi una cosa di cui si parla poco sia nel libro che anche nella storia però io credo che fosse più importante di quello che appare è il ruolo della moglie perché lui torna giovanissimo a Londra dove finisce perché lui era specializzato era botanico ma specializzato in micologia e poi si laurea in botanica quindi di fatto lui non è un agronomo ma a quei tempi diciamo si può dire che è diventato il miglior agronomo del mondo per esperienza ma lui si fidanza e si sposa con una giovane donna siamo ai primi del novecento e che praticamente era una dei massimi esperti sulla fotosintesi colorofiliana lavorava in laboratorio e se pensiamo a una donna che lavora in laboratorio sulla fotosintesi colorofiliana i primi del novecento si contano sulla punta delle mani ma questo è importante anche per poi tutto il lavoro di Howard dove chiaramente uno dei punti fondamentali è aver capito bene già a quei tempi l'importanza della fotosintesi colorofiliana che magari per noi può sembrare banale ma a quei tempi probabilmente in Italia in alcune zone non si sapeva neanche che esistesse insomma no? quindi diciamo e niente loro poi si sono spostati in India e lì hanno vissuto 25 anni lui già aveva avuto una serie di esperienze l'India gli ha dato tanto perché l'agricoltura indiana che è una delle agricolture più antiche del mondo insieme a quella cinese è qualcosa del Mediterraneo chiaramente aveva già delle tecniche tradizionali che lui ha preso e ha cercato di migliorare soprattutto prendendo anche spunto dall'agricoltura dei cinesi che era un'agricoltura anche più povera e più produttiva e a un certo punto chiaramente ha capito l'importanza della sostanza organica all'interno del terreno e soprattutto quindi dell'humus ma doveva arricchire questo terreno sapeva che se toglievi devi dare e quindi il compost è diventato diciamo il punto fondante uno dei punti fondanti del suo lavoro e dato che aveva animali ma non non si usava in India la retamazione e anche in Cina ma si usava anche la retamazione ma soprattutto il compostaggio vegetale e lui ha messo su un metodo che poi non è un metodo ferreo perché è evidente che a secondo le culture che tu hai puoi avere residui vegetali diversi quindi a secondo del territorio delle risorse e quindi poi chiaramente cercando di mantenere una certa umidità una certa percentuale di sostanza organica vegetale arricchita con una percentuale più bassa che in genere è intorno al 20% ma anche in alcune zone del 10% di l'etame insomma di sostanza animale per fare attivare tutta una serie di fermentazioni e per velocizzare diciamo il compostaggio di modo che poi dando questo al terreno la fase umica entra velocemente e e qui c'è c'è l'importanza anche del lavoro di Howard che lui già dagli anni 20 anni 30 andava a prendere ogni tanto una radice dai suoi campi e la spediva per bastimenti insomma a un piccolo laboratorio di Cambridge dove praticamente c'era un amico che faceva degli studi perché lui è stato uno dei primi a capire l'importanza della simbiosi della micorrizzazione delle radici e ha capito l'importanza sia per quello che riguarda l'estrazione dell'acqua appunto e dei minerali attraverso le micorrize ma anche di tutta una serie di sostanze che portavano la pianta a uno stato di benessere superiore che senza micorrizzazione non aveva e questo è stato uno dei motivi per cui lui si è opposto già da già a quei tempi ai concimi chimici perché si era accorto che la gran parte dei concimi chimici che poi si usavano a quei tempi andavano a inficiare sulla micorrizzazione o addirittura a farla scomparire si 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 accorgeva anche che gli effetti che magari inizialmente sembravano positivi poi duravano pochissimo dopo pochi anni dopo pochi raccolti la situazione peggiorava nei campi non migliorava e uscivano anche le malattie qui entriamo un po' nel discorso suolo e salute quando il suolo cominciava ad essere modificato dalla presenza dei concimi chimici iniziavano le malattie delle piante lui cita un sacco di malattie che tutt'oggi abbiamo e che lui risolveva utilizzando aggiungendo compost e rigenerando il terreno si 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 fondamentalmente anzi lui lui addirittura dice una cosa che oggi sembra un'eresia cioè lui dice che le malattie sono un aiuto per l'agronomo perché ti indicano che c'è un problema e quindi se tu sei capace a coglierlo velocemente lo risolvi velocemente diciamo che è una sorta di medicina come dire tradizionale o se vogliamo cinese cioè una medicina preventiva no? cioè tu ristabilisci l'equilibrio nel suolo l'equilibrio chiaramente organico soprattutto quindi l'equilibrio organico del suolo quindi l'humus abbiamo l'equilibrio microbiotico del suolo quindi i batteri i funghi eccetera abbiamo l'equilibrio della micorizzazione con le radici abbiamo l'equilibrio della pianta e poi dei vari animali compreso l'uomo che mangiano quelle piante allora Filippo ci sta iniziando a vedere le frasi io ho estratto alcune frasi dal libro è veramente pieno il libro di frasi che ci possiamo sottolineare copiare appendere al muro prima di andare a lavorare la terra ci possono veramente fare da guida veramente pieno di perle di saggezza e appunto la cosa che meraviglia è che lui l'avesse visto da tanto tempo sono anche questioni che noi oggi ci poniamo che ci sembra di scoprire adesso che certe pratiche fanno male e altre cose andrebbero fatte in realtà si sapeva e si vide subito che la chimica per esempio non era la strada giusta comunque Howard l'humus tra tutte è la riserva più importante in natura l'hai chiamato Alberto Filippo abbiamo italianizzato è la riserva più importante in natura lui parla tantissimo della necessità di avere riserve e parla della grande legge del ritorno la legge del ritorno che noi abbiamo un po' come dire estrapolato è anche un po' rovinato con diciamo l'economia circolare fondamentalmente ma effettivamente è un'economia circolare è la legge del ritorno ma è l'economia circolare della natura non un qualcosa di diciamo artefatto insomma quindi chiaramente lui prende fondamentalmente spunto dai boschi dai boschi dalle foreste eccetera cioè fondamentalmente osservando che poi è quello che poi in qualche modo Bill Mollison per la permaculture ha proseguito diciamo in gran parte il lavoro di Howard perché c'è da dire che Howard in Italia non lo conosce nessuno ma e nei paesi anglosassoni almeno tra le persone che si interessano in certo modo è conosciuto quindi Bill Mollison probabilmente l'aveva letto Howard Mollison sicuramente l'ho letto cioè ci metterei la mano sul fuoco insomma io sono stato in Australia ho pure frequentato aziende di permaculture e a quei tempi non conoscevo Howard capisci quindi nemmeno mi è venuto in mente di chiederlo eccetera ma tu devi pensare solamente una cosa per farci per far capire siccome i diritti della terra che è il libro precedente di Howard è stato tradotto in italiano vent'anni fa è stata fatta una prefazione e un'introduzione la prefazione la fece ventidue anni fa il principe Carlo di Inghilterra cioè il re di Inghilterra adesso quando era molto a favore del biologico scusami una cosa tecnica ti chiedo di abbassare un po' il tuo volume cioè il volume del pc ok perché altrimenti abbiamo un ritorno appena appena parlo anche un po' più piano perché ho un vocione e l'introduzione l'ha fatta Vandana Shiva che è diciamo uno dei manifesti dell'ecologia indiana e tra l'altro Vandana Shiva per difendersi da un attacco di multinazionali a quei tempi era proprio la 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 si si la Monsanto mi sa che c'è il problema ancora con l'audio giusto Filippo se puoi abbassare la mia la voce con cui mi ascolti se puoi sempre un po' sì l'esaurimento l'esaurimento della fertilità è il trasferimento di un passato capitale e di future possibilità allo scopo di arricchire un disonesto presente intanto leggevo una delle frasi lui finisco finisco questa cosa praticamente la la Monsanto si stava accreditando una serie di grani tradizionali indiani e lei per dimostrare che erano tradizionali indiani è andata a riscoprire dei lavori di Howard su quei grani e praticamente grazie a Howard si sono salvati i grani tradizionali indiani quindi voglio dire quindi all'estero non è che è piuttosto conosciuto tant'è che io ho pensato che negli anni 50-60 non c'era nessun interesse di tradurre Howard in italiano perché noi siamo stati il paese che più velocemente di tutti gli altri è passato da un sistema agricolo contadino a un sistema industriale nel giro di 10 anni cioè basta chi vuole fare cultura basta leggere Pasolini in quegli anni lì che diceva sul passaggio dalla tradizione contadina non solo agricola ma anche culturale e tutto quanto al passaggio del pensiero omologato industriale moderno insomma quindi diciamo anche lui è stato abbastanza profeta diciamo di una serie di cose Howard chiaramente torniamo un po' alle frasi che leggiamo l'applicazione di fertilizzanti chimici ah sì infatti fu scrupolatamente sostenuta da tutte le cose e tra l'altro lui sfidò più di una volta le ditte proprio per dimostrare che il suo processo era parimenti produttivo forse a quei tempi era più facile perché adesso pompano ancora di più più specializzati eccetera ma soprattutto chiaramente poi conservava la fertilità del suolo e non c'aveva malattie e tutto quanto ma le ditte sono sempre sfuggite perché sapevano che era bravo quindi non l'avamo fatto tra l'altro lui fa un'accusa se vogliamo molto moderna a un certo metodo scientifico sì cioè che poi non troviamo solo in agricoltura guarda fa la stessa accusa che fa anche un altro grande insomma che ci ha parlato dell'agricoltura naturale che è Masanobo-Fukuoka ho trovato molte analogie cioè il ricercatore si chiude nel suo laboratorio non conosce più la terra non coltiva non conosce pure gli agricoltori e quindi non trova le vere soluzioni però poi quel tipo di ricerca viene imposta qui si parla del ministero dell'agricoltura può succedere sì ma lui siccome in Inghilterra ci sono stati fatti i primi campi sperimentali al mondo e quindi diciamo cose che noi abbiamo fatto solo dagli anni 60-70 e poi cioè quando tu devi fare una sperimentazione prendi un campo devi diplot e fai delle prove eccetera e su quelle prove lì dai una serie di dati e questo è un discorso classificato scientifico mentre lui attaccava ampiamente questa questa metodologia perché dice questa in campagna non funziona così cioè quella prova che tu fai su tre metri quadri la dobbiamo fare su tre ettari solo così c'hai una risposta reale di quello che è il discorso e quindi lui veniva anche attaccato da molti agronomi del sistema di allora però si difendeva bene guarda ognuno ognuno dei partecipanti al convegno insomma si riferisce a un evento dei suoi tempi senza eccezioni eccezioni lavorava sotto la schiavitù della mentalità NPK lui parla spesso di questa mentalità NPK che appunto io pensavo esatto che fosse una trovata moderna invece già alla fine forse dell'ottocento primi novecento aveva già diciamo permeato quasi tutti coloro che lavoravano la terra dal punto di vista intellettuale NPK ecco lo spieghiamo sono i tre diciamo le tre basi della fertilizzazione chimica quindi l'azopto il potassio e il fosfo sì che poi è Liebig cioè la chimica di Liebig portò alla concimazione chimica e i tre macroelementi primari sono azotofosforo e potassio no NPK e sì lui si difendeva benissimo e attaccava benissimo e tra l'altro la cosa che 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 permea il libro è il suo ottimismo sì è un ottimismo io in qualche modo ho pensato anche un po' ingenuo perché però forse a quei tempi non sapevi con che mostro avevi a che fare perché ancora il mostro non era enorme come poi è diventato lui vedeva che era così evidente purtroppo la mia voce ancora si sente scusate allora lui vedeva così evidente le sue soluzioni cioè che un suolo sano che funzionava naturalmente che aveva questi apporti di compost risolveva tutti i problemi e adesso poi entriamo più nello specifico perché voglio dare indicazioni che permettano alle persone anche di riportare tutto nei loro campi nei loro orti attualmente e vedeva talmente evidenti questi risultati che venivano applicati poi in vari posti nel mondo dove lui aveva visitato per esempio Cite il Sudafrica che come se non potesse che era talmente evidente che le cose non potevano che andare in un determinato modo cioè preso atto che la buona produzione di cibo di qualità perché poi lui critica anche la mentretà della quantità al posto della qualità serve cibo di qualità per mantenere tutti in salute è talmente evidente che non non si poteva fare altrimenti cioè non poteva che essere quella la soluzione cioè il bene comune portato avanti dalle nazioni avrebbe inevitabilmente fatto prevalere quell'altro tipo di mentalità non quell'NPK e invece Certo lui portava anche degli esempi ad esempio lui porta degli esempi sulle menze menze di operai menze di operai in Birmania menze di operai in Inghilterra e soprattutto menze scolastiche e soprattutto menze scolastiche durante il periodo della guerra che era un periodo di scherzezza alimentare menze scolastiche basate sul giardino queste scuole che avevano ampi giardini coltivati quindi diciamo un buon percentuale del cibo veniva fatta in maniera organica da alcuni allievi e dal giardiniere che si davano da fare e la stessa preside o insomma insegnanti notavano che negli anni per esempio le influenze tutta una serie di di problemi patologici dei giovani erano diminuite nel giro di due tre anni proprio da quando era cambiata la dieta io per esempio non so se avete mai sentito ci sta un medico non napoletano comunque sì insomma campano che si chiama sembra del buono che parla di orto farmacia cioè l'orto come farmacia no beh praticamente già nel nel libro di Howard si 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 va in quella direzione lì perché è chiaro che questo ormai si sa anche diciamo oggi si può anche ponderare no che una 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 pianta che ha che ha per esempio flavonoidi o antociani e antiossidanti cioè tutte quelle sostanze che sappiamo essere degli ottimi integratori che noi siamo costretti spesso a prendere come integratori esterni stanno dentro le piante ora però è stato visto che una coltivazione biologica fatta chiaramente bene con una buona quantità di humus eccetera alza nettamente la quantità di queste sostanze rispetto che ne so a una coltivazione da serra diciamo chiaramente concimata chimicamente e e quindi praticamente tu mangi verdure molti li chiamano verdure pigre no frutta pigra pigra perché una parte di quello che teoricamente ci dovrebbe essere non c'è più e quindi sei costretto poi a comprarti la pilloletta di 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 antociani o di riboflavonoidi o altre cose chiaro ti voglio leggere qualche messaggio c'è Mario che scrive ciao a tutti io ho due lauree per fare l'orto devo prendere una terza in agronomia forse è ironico non lo so te vuoi la firma in realtà allora io non credo che serva una laurea in agronomia però una lettura come questa può incoraggiare tu sei agronomo e anche un po' pentito tra virgolette nel senso che non la vedi sempre come altri tuoi colleghi ecco diciamo così no ma non sono pentito è un po' come uno intende l'agronomo certo se lo intendi come lo intendono certi sarei pentito io non l'ho mai inteso così già dagli anni in cui studiavo quindi non sono pentito no a questa persona dico semplicemente che c'è gente e i migliori orti e gli facevano i contadini che spesso non avevano neanche la terza elementare quindi non è questione di laurea è questione di stare ai ritmi della natura siccome noi non siamo più capaci di stare ai ritmi della natura quindi evidentemente o troviamo il modo di rimetterci in sintonia oppure forse è meglio che studiamo qualche libro insomma ecco tutto qui ma è evidente che per duemila anni nelle campagne che ne so toscane il Lazio non è stato proprio un ottimo esempio di agricoltura per tanti motivi storici però insomma ma la stessa Sicilia ci ha avuto e la campagna per dire il sud stava più avanti del Lazio e c'erano delle conoscenze incredibili che poi erano conoscenze tradizionali che passavano da nonno a figlio a nipote eccetera quindi il discorso di usare l'etame insomma si sa io per esempio sempre nel periodo di di covid così tra i libri che ho letto che non avrei mai letto che ho comprato 30 anni fa e stava da una parte così perché era un mattone peggio di questo e c'era il De Agricoltura di Corumella ah che bello io non lo trovo è difficile averlo bravo ce l'ho ce l'ho e me lo sono letto tutto e praticamente praticamente sono tutte tecniche d'agricoltura biologica perché fin dei conti ai tempi dei romani sono quello e molte di queste sono ancora diciamo perché quando parlano di sovescio quando parlano di rotazione quando parlano di di diciamo dobbiamo darlo anche facevano anche allora il compostaggio vegetale infatti ci devi dare qualche dritta sia delle cose di Howard che quelle di Columella ti leggo la frase di Stefano se penso cosa mangia mio figlio alla mensa mi vengono i brividi meno male che con il nostro orto ci rifacciamo la bocca naturalmente vero bio ok all'istrice invece dice il terreno è fondamentale poi però servono buoni semi parla anche di semi questo ci porta a un discorso molto importante anche quello che dice Howard sui semi perché anche i buoni semi senza buon terreno alla fine si perdono diciamo lui chiaramente era molto interessato al potere germinativo dei semi nel senso che si erano accorti che dopo un po' di anni determinate varietà perdevano il loro potere germinativo e quindi diciamo poi le varie oggi multinazionali comunque le varie ditte oggi sono tutte multinazionali che facevano nuove varietà per diciamo ridare forza germinativa al seme e adesso a quei tempi non c'erano ancora gli ibridi tanto meno gli OGM però lui già contestava questo perché lui diceva la germinialità la perdiamo proprio per la mancanza di sostanza organica perché proprio nel momento della fioritura e quindi poi della dell'allegaggione la pianta ha un maggiore bisogno di una serie di sostanze che in terreni inariditi diciamo dal punto di vista di humus e quindi poveri magari senza micorrize hanno difficoltà a compiere bene questa parte del ciclo e quindi la capacità germinativa si perde e per dimostrare questo fa una cosa stranissima lui perché in quel periodo c'era un problema sapete in Inghilterra le patate erano una delle piante più più importanti tutto il nord Europa diciamo e praticamente appunto bisognava importare nuove varietà perché stavano perdendo il potere germinativo e lui si era accorto che invece quei campi che 30 anni prima avevano dissodato ed erano praterie o boschi eccetera ricche di sostanze organiche dopo 30 anni non c'avevano più niente quindi le patate non c'avevano più quella capacità germinativa anche non proprio da seme ma semplicemente la patata è praticamente un clone si divide il tubero e si semina quello cioè non è proprio un vero seme beh lui riesce a trovare non so se l'hai letto un'isoletta dispersa nell'Atlantico che io manco sapevo che esistesse dove praticamente sono scomparsi per naufragio alcuni inglesi e due italiani tra l'altro dell'Iguri che praticamente vivono queste famiglie con mi sembra hanno otto cognomi tutto il villaggio su quest'isola di cui due sono italiani da 300 anni lì no? ok 250 anni almeno insomma e chiaramente vivono di pesca ma soprattutto di agricoltura che fanno loro e lui diceva la patata è quella che portarono i primi e non l'hanno mai cambiata questi sono 250 anni che stanno lì perché perché sfruttando le alghe che arrivavano agli osa dalla cosa e sfruttando il concime ma soprattutto concime d'alghe praticamente lui dimostrava che praticamente era impossibile perdere la germinabilità quindi diciamo tutta una serie di cose il problema è che c'è un gap di 70 anni tra il suo ottimismo perché lui sperava che dopo la guerra ci fosse questa voglia di tant'è che lui il libro se voi ci pensate il libro precedente che si chiama i diritti della terra dove spiega molto bene forse anche meglio di questo il metodo indoor in particolare questo qui in inglese si intitolava in agricultural testament il che la dice che per lui questo doveva essere l'ultimo ci siamo? sì stesso testament se non che dopo 3-4 anni lui si rende conto che le cose non stavano andando come lui sperava e quindi scrive un libro più forte perché suole salute rispetto ai diritti della terra tocca appunto temi come può essere il discorso non solo dei concimi chimici ma anche della salute degli animali della salute dell'uomo cioè fa un discorso ancora più ampio no? e sperando di riuscire a portare questa è solo che capito insomma è sembrato in alcuni momenti era stato un po' come Don Quixote contro i mulini a vento perché fondamentalmente ecco la dice lunga che ci sono voluti 70 anni per tradurlo e poi non è stato nemmeno facile pubblicarlo ci hai detto perché poi mi siete impegnati poi anche trovare la casa editrice la casa editrice la citiamola è Ciampi Editore Roma ha il tuo stesso cognome perché è un tuo parente ma insomma non sei tu che l'hai fatta all'edizione però non sei riuscito a trovare un editore più grande che gli desse magari immediata diffusione comunque noi abbiamo messo il link in descrizione mettiamo il link dove l'abbiamo insomma trovato si trova un po' vari distributori anche online e ah citiamo anche una cosa importante perché per chi è di Roma e dintorni c'è anche un evento programmato per il primo aprile che appunto qui a Roma l'associazione Anagogia organizza presso il centro studi Tre Fontane in via Luigi Perna 51 vi ho dato tutto questa presentazione e quella per chi è della zona è un'occasione per incontrarti per continuare questo discorso anche per acquistare una copia del libro quindi comunque il libro si trova online si può acquistare anche direttamente dalla casa editrice quindi si può trovare però non è stato semplicissimo probabilmente appunto sono le letture che non sono comode per tanti senti una cosa Tara Ernesta dice la conoscenza del dottor Ciampi è davvero immensa grazie per tutti i consigli servono altre serate ok non vale un'amica è un'amica ok va bene allora io vorrei dare consigli non sapevo che seguiva lei seguiva da sempre i tuoi programmi ah ok li seguiva da prima quindi contenta stasera ci sei anche tu senti cosa importante adesso la ricordava Filippo non soltanto lui dimostra che le malattie delle piante passano quando viene messo il compost quindi quando il terreno torna ricco ma anche gli animali che si nutrono delle erbe che crescono in determinati pascoli guariscono non si ammalano cita infatti varie patologie tra cui l'afta epizoica che è una diciamo nota e insomma ancora presente tra l'altro esatto nefasta infatti lui lui addirittura usava per esempio una cosa che si fa poco concima anche le leguminose e concima anche il foraggio cosa che anche tra alcuni biologici siccome le leguminose fanno azoto e quindi dici vabbè la leguminosa è una miglioratrice del terreno che la devo concimare ma invece lui ti spiega molto bene che una concimazione magari leggera non forte ma soprattutto nella prima fase dove la leguminosa comunque deve crescere per diventare una leguminosa che produca cioè è importante soprattutto poi se quei semi li devi usare per germinare cioè se tu fai lenticchie e ceci ci avranno un potere germinativo maggiore quindi è importante anche questo ora gli animali il discorso è questo lui quando arrivò l'afta epizoica in India ad esempio c'è proprio l'esempio pratico lui aveva un paio di dozzine di bovini che a quei tempi venivano usati in India soprattutto per lo spostamento dei carri e per l'aratura eccetera stiamo parlando degli anni 30 e quindi c'era un minimo di animali che tra l'altro sappiamo che in India non si mangia non viene mangiata e lui li usava per migliorare il compost perché abbiamo detto che il compost di ah guarda non è solo vegetale ma sono degli strati vegetali con degli strati minori animali e quindi diciamo avere dei bovini nel caso suo era ottimale questi bovini chiaramente mangiavano il foraggio della stessa azienda ma anche il foraggio veniva ben concimato quindi era un foraggio molto ricco pieno di vitamine eccetera e quindi creavano tutta una serie di difese in più chiaramente venendo lui da una famiglia di allevatori di un certo livello dell'Inghilterra sapeva benissimo quanto era importante il ricovero dei bovini evitare troppo caldo evitare troppo freddo chiaramente l'Inghilterra è più troppo freddo l'Inghilterra forse è più troppo caldo e per esempio lui era contrario che già gli inglesi mettevano il cemento alla base delle stalle e lui si era accorto che diciamo gli animali sul cemento oltre a avere dei problemi possono possono avere anche diciamo più facilmente delle patologie e mentre invece lui teneva un terreno un po' sabbioso un po' dove c'era molta paglia e loro giravano lì poi ogni tanto c'erano gli uomini che prendevano questa cosa ed era tutta roba utile per il compostaggio però gli animali venivano tenuti puliti venne un veterinario dell'impero stiamo parlando di 28 29 e lui per 12 13 anni ha tenuto questi bovini senza accettare la vaccinazione per l'afte epizoica che gli consigliava il veterinario a quei tempi lui poté tranquillamente dire no io me li allevo in questo modo e il veterinario era incuriosito quindi accettò molto volentieri e disse sì comunque visto che fa questa cosa gliela seguo volentieri e praticamente lo dice lui in 13 anni ci ha avuto solo tra tutti i bovini solo un caso un anno solo che era poi un anno di carestia insomma di secchezza del terreno che però è guarito nel giro dei 10 15 giorni sempre dandogli l'ottimo passo eccetera chiaramente poi torniamo sempre un po' al discorso delle microsostanze che noi siamo sempre abituati alla quantità quindi quantità di peso quantità di azoto fosforo e potassio quantità di proteine zuccheri e grassi eccetera quando poi scopriamo che magari ci sono delle sostanze che sono in quantità molto minori rispetto ai carboidrati zuccheri e grassi che però hanno delle funzionalità a livello enzimatico a livello diciamo protettivo e a livello antiossidativo eccetera fondamentali per la vita basta pensare a tutta la sinfonia che facciamo ogni volta e parliamo dell'olio d'oliva eccetera e quindi più i frutti le erbe i vari prodotti di aorto sono ricchi di queste sostanze e più entrano nel nostro organismo e nell'organismo degli animali chiaramente e più ci proteggono da una serie di patologie quindi lui era molto ottimista lui addirittura dice se domani facessimo tutti così avremmo quelle 3-4 patologie difficili comunque ma tutto il resto secondo lui sarebbe sparito questo era lui era un visionario diciamolo francamente sì sì però tutto quello che dice lo prova sempre fa degli esempi sempre di cose constatate lui i bambini cento bambini mangiavano biologico per tre anni dentro le scuole tutto l'anno e addirittura quando fece in Birmania quella cosa che poi lì ci fu il partito la seconda guerra mondiale e dovessero smettere gli operai di questa ditta mangiavano tutti e praticamente potevano portare anche a casa il cibo e praticamente le mogli non si ammalavano i figli non si ammalavano tant'è che all'inizio erano un po' contrari poi erano loro stessi che avevano piacere di coltivare l'orto perché vedevano una risposta positiva nella vita allora c'è una domanda di Cristiano cosa ne pensa il professore del carbone vegetale dei relativi mix con compost e vermicompost per accelerare il tempo di rigenerazione di un suolo Cristiano Gallinella è nostro amico che lavora con il biociara attivato e quindi vuole sapere il tuo parere si guarda sinceramente io in genere parlo di cose che ho provato questo non l'ho provato però ne ho sentito parlare piuttosto bene da colleghi e quindi diciamo va benissimo teniamo conto che noi abbiamo questa questa cosa che io forse sto diventando vecchio cioè nel senso che o siamo per la rigenerazione del suolo o siamo per l'orto sincretico o siamo per cioè ci dobbiamo per forza sentire dentro una 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 comunità che il che è anche positivo non è che voglio dire però che a volte diventa anche una limitazione cioè abbiamo bisogno di due tre cose perché magari non conosciamo tanto e essere sicuri di quelle cose chiaramente Howard parte da un principio completamente diverso cioè lui vuole conoscere il sistema e poi a secondo le situazioni trovare le cose giuste per esempio abbiamo parlato di metodo Fukuaka no? sì per esempio la non lavorazione del terreno è una cosa stupenda però su certi terreni altamente argillosi del Lazio forse ci si potrà arrivare dopo dieci anni di lavoro fatto per bene ma se tu sei completamente convinto che quello è l'unico modo di coltivare c'è il rischio che prendi un abbaglio su quel terreno non è che dico quindi bisogna sempre vedere ora in questo caso è sicuramente un metodo buono per la rigenerazione dei suoli sì sì Cristiano utilizzare un terreno argilloso ha ottenuto grandi risultati perché nel suo terreno era proprio quello che c'era tra l'altro Howard parla anche del ripuntatore come soluzione diciamo noi in Italia lo chiamiamo spesso ripper che però gli inglesi intendono una cosa diversa però fondamentalmente questo mi sembra che anche gli agronomi diciamo di vecchia scuola l'hanno capito da un pezzo cioè che l'aratura profonda diciamo distrugge la fertilità del suolo e è compatta cioè l'aratura profonda in genere sono aratri che scende un po' copiando gli americani che chiaramente c'erano questi trattori moderi enormi con aratri profondissimi tra l'altro su superfici incredibili e praticamente questo non è un aratro profondo no no è tutt'altro è chiaramente e quindi fanno una rivolta allo strato siccome il suolo praticamente si intende per suolo quella parte di terra ricca di sostanza organica la terra c'è pure sotto ma la sostanza organica va sempre più a diminuire fino a quasi non esserci tra l'altro passiamo da un terreno anche se non lo vediamo c'è parecchio ossigeno nelle prime parti del terreno quindi i fenomeni sono aerobici e i microorganismi che vivono sono aerobici eccetera mentre più scendiamo più il terreno è ridotto e quindi i microorganismi c'è rischio che sono anaerobici allora quando noi arriamo in quel modo noi la parte buona la buttiamo sotto e quella cattiva la portiamo sopra il che non è un gran bel lavoro e chiaramente alcuni terreni vanno mossi parlavamo prima appunto dei terreni l'aratro ripuntatore può essere una soluzione cioè un'aratura leggera e il ripuntatore non è altro è vedete qua c'è un coltello è un coltello un coltello che è una lama che invece di rivoltare taglia solamente tagliando noi permettiamo all'acqua e a una serie di fenomeni diciamo osmotici anche tipo vasi comunicanti di girare più liberamente all'interno del terreno quindi per esempio nel caso di alcuni terreni asfittici quando piove troppo l'acqua rimane in superficie e diventano si allagano mentre invece un passaggio taratro ripuntatore ci permette diciamo un questo ma la cosa interessante di Howard per esempio una cosa che in agricoltura biologica non avevo trovato da nessuna parte è che lui ci dice una cosa siccome una delle sostanze che spesso mancano di più in agricoltura biologica è il fosforo perché nel concime diciamo ce n'è poco e tant'è che la gente che vuole arricchire di fosforo gli unici concimi che sono arricchire di fosforo sono quegli uccelli tipo guano guanito o pollina insomma al limite no e beh lui ci dice che l'aratro ripuntatore tagliando il terreno lui dice guardate che negli strati inferiori il fosforo c'è questo va bene carato se noi permettiamo degli scambi e piano piano sale e quindi risolviamo anche il problema del fosforo che è una cosa che ho trovato solo da Howard io nel senso non l'avevo mai trovata sì allora sempre parlare una cosa altra importante che lui dice che servono assolutamente gli animali quindi nel parlare di compost parla della necessità dell'etame che poi può essere anche distribuito in maniera naturale l'animale che si muove liberamente è anche quella una soluzione se andiamo a vedere l'Italia centrale alcune zone dell'Abruzzo anche dell'Alta Umbria delle Marche Alte eccetera ancora c'è questa tradizione un po' legata al Pascolo eccetera con gli animali liberi i Pascoli e quindi diciamo l'etame viene disperso e comunque va nel terreno però tolto ciò chiaramente quando si fa agricoltura intensiva che può essere nel caso di Howard erano sia orchi ma lui faceva ettari di frumento ettari di tante piante orientali che magari c'è caffè eccetera eccetera quindi è chiaro che lì devi preparare dei compostaggi fatti bene e gli animali servono per migliorare il compostaggio ora in Italia il problema è più forte perché noi avendo scelto una strada prettamente industriale anche come mentalità degli allevamenti che abbiamo fatto abbiamo radunato quasi tutti gli allevamenti in una zona che è fondamentalmente tra Emilia e Lombardia insomma a parte poi qualche altro grosso allevamento soprattutto di maiali però diciamo il grosso dei bovini sta lì a quel punto abbiamo due problemi insieme un problema è che l'etame nell'altra tre quarti d'Italia non si trova e non è che uno può comprare un camion dell'etame dalla Puglia per farlo venire è proprio insostenibile per usare una parola un po' troppo demoto ultimamente costa più viaggio che l'etame e quindi c'è questo problema che anticamente non c'era perché nella vecchia Italia contadina è chiaro se parliamo prima della guerra le pecore ce l'avevano c'erano molte di più i bovini erano di meno però erano molto più più sparsi e quindi diciamo c'è chi c'aveva il cavallo poi c'erano i cavalli una volta non dimentichiamo anche i sommari eccetera e poi c'è un altro problema l'altro problema è che l'etame concentrato da diventare un concime ottimo per il terreno buttato in maniera soprattutto poi quello dei maiali ma anche quello bovino se è troppo concentrato prima cosa causa nitriti nel terreno e quindi poi nitriti nelle piante quindi diciamo non ci fa bene e tra l'altro questo uno studio che avevo fatto che c'erano alcune zone dell'Emilia Romagna che per diminuire diciamo invece per diminuire l'apporto di nitriti nel terreno che facevano avevano studiato un sistema di arieggiamento dell'etame prima di cospargerlo perché arieggiando l'azoto una parte andava via se non che l'azoto che va via va via come protossido d'azoto e il protossido d'azoto ha un'azione diciamo insomma d'effetto serra superiore all'CO2 quindi diciamo doppio danno e purtroppo ecco come diceva Howard cioè a ricostituire le cose in equilibrio ci vogliono anni a distruggerle spesso ci vuole poco no? e noi non voglio dire che in questi 70 anni abbiamo solo distrutto perché sarebbe sbagliato però diciamo che abbiamo più cavalcato quella situazione lì e quindi sai per esempio quando noi vediamo la sostanza organica scendere a livelli incredibili per esempio parlavamo l'altra volta con te del problema della xylella in Puglia mi interessa molto che entriamo in questo argomento perché quando parlavi di pascolamento rifacendosi a quello che dice Howard se questi olivi sono stati attaccati in maniera così violenta dal batterio è perché il suolo non riesce a dare il nutrimento che serve alla pianta per difendersi allora io senza sapere diciamo né leggere né scrivere nel senso che avendo letto Howard ho detto uno più uno potrebbe fare due per cui ho fatto una cosa che può fare qualsiasi persona va su qualche sito internet e cerca se c'è ci sono delle analisi del suolo di quella zona di olivi dell'eccese del tarantino più attaccata da xylella e vai a vedere che la sostanza organica sta intorno all'1% 1,2 1,5 ma insomma noi sappiamo benissimo che deve stare minimo sopra il 2% ma nei terreni biologici dovrebbe stare almeno sul 3% insomma quindi quella è una percentuale di sostanza organica che può portare il terreno alla desertificazione perché si è visto che anche se tu dai concimi chimici comunque i concimi chimici viaggiano all'interno del terreno grazie sempre alla frazione umica all'argilla diciamo messa in un certo modo altrimenti le radici hanno pochissima capacità di acquisire anche i concimi chimici qualora manchi proprio completamente la sostanza organica quindi dovresti aumentarla ancora di più la concimazione chimica in un terreno così e portarlo piano piano alla desertificazione che è un rischio del sud Italia anche per problemi termici insomma ma no c'è più caldo e quindi si produce più facile allora il discorso è questo non hanno fatto solo questo chiaramente smettendo la concimazione di diciamo di compostaggio che probabilmente non era molto usata lì forse la cosa che era più usata era il pascolamento degli ovini che in Puglia in passato era la cosa più frequente e c'era anche la potolica pugliese insomma che sono tutte cose che stanno semisparendo tutto il problema della biodiversità tant'è che in Puglia se tu allevi l'altamurana che è la pecora appunto d'altamura o la moscia leccese che è appunto la pecora della zona di Lecce e Taranto del basso hai dei contributi perché sono razze che stanno rischiando di sparire insomma mentre invece prima e tra l'altro perdendo anche delle qualità di formaggi perché poi c'è anche da dire questo che quel tipo di pascoli quel tipo di latte dava dei profumi e formaggi qui il discorso diventa molto più ampio però la cosa che ci interessa a noi in questo momento è capire che quei terreni hanno perso la loro fertilità che succede? in più spesso invece di fare dei sovesci invece di fare delle leguminose invece di fare venivano semplicemente tenuti puliti quindi con diserbo o meccanico o addirittura chimico concimati chimicamente eccetera è praticamente quello che diceva guarda ma le micorizze di questi olivi e quindi se il sistema micorizzale dell'olivo mi 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 cede olivi tra l'altro piuttosto anziani la salute della pianta mi scema e quindi un attacco che forse può essere contenuto io dico forse perché poi per essere scientifici bisognerebbe fare prove al cento per cento però comunque è un'ipotesi più che valida e ci sarebbe da lavorare in questo senso no? perché per esempio adesso se voi andate sui siti voi potete fare micorizzazioni per i vostri pomodori per i vostri frutti eccetera e ci sono varie ditte che appunto ti danno il fungo adatto per quel tipo di piante eccetera e che è una cosa buona non è che voglio dire di no se non che dovete pensare che terreni realmente fertili dove da anni si fanno quelle vecchie varietà che girano eccetera quei funghi là ce l'hanno ce l'hanno naturalmente capisci come voglio dire quindi fondamentalmente non è che non è che io so sia contrario a queste ditte che vendono le micorrize eccetera anzi è importante io per esempio se andassi in Puglia cercherei di micorizzare gli olivi per cercare di tirarli su certo però nello stesso tempo nello stesso tempo dovrei tirare su la sostanza organica perché se io aiuto un po' la micorriza un anno e poi rimane tutto tutto tal quale io lo dovrei micorizzare ogni due o tre anni non è questo la micorriza vive normalmente nel terreno solo noi gli dobbiamo permettere di vivere ok Gianluca grazie stra logico insomma non possiamo andare sempre a mettere il rimedio lo mettiamo perché abbiamo distrutto la qualità del suolo la fertilità del suolo però se non ricostituiamo la fertilità del suolo non ci sarà nessun rimedio che ci darà la soluzione definitiva tutto sarà transitorio e alla fine inutile allora stiamo ricevendo un sacco di domande specifiche interessanti quindi adesso te le faccio una per una e cerchiamo di rispondere mi fanno domande molto tecniche metri quadri a te no vabbè questo magari non l'avevo nemmeno letta secondo quanto letame Filippo decidi beh allora diciamo il metodo di Howard ti consiglierebbe di usare letame in compostaggio cioè di unirlo ai residui vegetali e probabilmente più efficace ancora oltretutto ricordiamoci sempre tu sa letame ben maturo eh sì o tra l'altro Howard fa una cosa che è un tabù la accenniamo solamente perché tra l'altro ne parlava anche Columella duemila anni fa in zone e chiaramente oggi è impensabile o comunque bisognerebbe ripensarla completamente però lui in Sudafrica non so se l'hai letta la fece fare e cioè praticamente dove non ci sono animali c'è l'etame umano e l'etame umano funziona uguale tra l'altro il modo per recuperare il fosforo se non sbaglio che abbiamo questa carenza di fosforo un po' un po' un po' comunque diciamo che dovremmo ricambiare tutto ma visto che dobbiamo ricambiare tutto perché le cose non vanno proprio magari ci arriviamo anche a questo o tra l'altro non so se ti ricordi cioè se ci hai visto e sei arrivato alla fine io ho messo una lettera di Liebig sì interessantissimo guarda ce la chiediamo per ultima cosa la lettera di Liebig facciamo le domande e poi la riflessione di Liebig che è un altro tema stra interessante e lo tocchiamo prima di chiudere allora è importante una buona alimentazione degli animali per il letame o va bene tutto il letame anche quello degli allevamenti intensivi e cosa ne pensa dell'etame pellettato allora cioè voglio dire affari puristi in un momento del genere non si può perché se eliminiamo il letame degli animali diciamo in stalla insomma allevati industrialmente ed eliminiamo il letame pellettato praticamente devo dire che non ce l'abbiamo quasi per niente l'etame quindi non c'è per tutto bisogna fare di necessità virtù insomma chiaramente stando un po' attenti eccetera però io piuttosto che non darlo lo darei anche se non è perfetto allora c'è Tara che ti chiede sto preparando il terreno in questi giorni dopo tre anni da argilloso adesso è pieno di lombrichi sto lavorando solo di forca vanga senza girare le zolle devo concimare lo stesso secondo me allora guarda tanto che inizia il fatto che ci siano i lombrichi non vuol dire che non è più argilloso è argilloso ma l'argilla essendo diventata molto umica è molto più permeabile molto più plastica eccetera più facile anche da lavorare ma non è che quel terreno non è più argilloso è che la parte di sostanza organica rende l'argilla molto meno e questi vecchi contadini lo sapevano no? quindi perché lavorare di zappa su terreni argillosi senza sostanza organica cioè ma neanche i vecchi contadini ci riescono tanto io non più sicuramente no? quindi va bene e poi che diceva anche faccio un esempio io ho un amico un vecchio agronomo che si è un po' riconvertito al biologico o torto collo però poi ci si è buttato dentro no? lui ha una vigna enorme e di famiglia c'è un sacco di terra e praticamente lui si è accorto che nel giro di due anni i lombrichi che si era dimenticato che esistessero sono tornati no? e quindi diciamo il lombrico è un indicatore sicuramente lombrico poi oltretutto te la continua a omificare la sostanza organica perché di fatto lui diciamo digerisce il mondo dell'ombrico cioè gli passa tutto dentro e poi compost maturo lo useresti integrandolo nel terreno si allora compost maturo integrandolo nel terreno o nella buchetta dove mettiamo il seme? compost maturo se chiaramente a contatto proprio bisogna stare attenti perché comunque voi dovete pensare che l'azoto un pochino brucia no? ok quindi quando noi quando ti dicevano da bambino non fare la pipì sulle piante no? nei maschietti perché le bruciavi le piante perché l'urina è ricchissima d'azoto no? e e quindi infatti i romani la usavano come concime no? eccetera e quindi qualsiasi cosa anche chiaramente se è maturo c'è tempi più lenti e tutto quello che ti pare però magari mischiata un po' di terra mischiata un po' di compost eccetera non proprio a contatto con il seme appena germina perché se gli arriva una bocchina adazota un po' forte il germinello è piccolino e può rimanere un po' quindi meglio integrare nel terreno di fatto insomma la risposta è meglio integrare nel terreno e avere sì diciamo un'interrata non tanto cioè molto leggera non è che lo deve interrare profondissimo no 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 primissimi centimetri 3-5 centimetri così allora Felice chiede ma usando solo la moto zappa va bene lo stesso per girare il suolo senza l'uso dell'aratro allora come dicevo prima dipende sempre dai terreni no non è che c'è una regola prima cosa su un orto difficile che uno usa l'aratro l'orto poi se è lavorato più anni con un minimo di intelligenza si ammorbidisce da solo perché o la concimazione ma anche se a volte per esempio io avevo un amico che faceva per anni faceva due orti un anno uno un anno l'altro praticamente tutti i residui li buttava da una parte poi l'anno dopo faceva l'orto da una parte tutti i residui li buttava da una parte e quindi praticamente si creava un letto soffice perché tutta la roba fermentava diciamo nel terreno eccetera io per esempio quando nelle comunità dove lavoravo a Castel di Guido c'era una comunità di ragazzi dove facevamo un orto e dovevo fare la pacciamatura però non volevo usare la plastica allora lì c'era un grosso allevamento di bovini e ogni tanto ci ha dato anche un po' di retame ma ci dava quei rotoloni delle rotoballe quando andava un po' a male io che facevo stendevo il rotolone lo tiravo giù lungo diventava un tappeto lunghissimo e lo usavo come pacciamatura ed era fenomenale perché funzionava i primi mesi in maniera forte poi chiaramente si iniziava a degradare ma serviva già di meno dopo e poi infine con un po' di letame sopra a quando arrivava l'autunno diventava concimo organico per il terreno e chiaramente il terreno si diventa sempre più soffio quindi per chi lavora con la moto zappa se c'è il terreno soffice e c'è due belle braccia non c'è nessun problema io quando parlo di aratura in genere parliamo di terreni di ettari eccetera insomma sugli orti a meno che in casi particolari oppure all'inizio proprio eviterei di usare l'arato Allora la domanda di Luca è come definiva il compost ai suoi tempi io credo che si riferisca a Dauard come lo chiamava il compost è stato tradotto compost non so la parola inglese ma secondo me è una parola anglosassone quindi diciamo diciamo sì 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 un po' beh probabilmente chiaramente lui lo chiamava appunto il metodo indoor perché indoor perché indoor era la cittadina dell'India della provincia indiana dove lui faceva queste sperimentazioni quindi l'ha chiamato indoor per quello non perché era al chiuso perché oggi indoor è usato a parte che è scritto in maniera diversa però sì sì no no penso comunque se ho capito bene non è spiegato approfonditamente in questo libro credo che fosse spiegato un po' più nell'altro che non ho ancora letto se ho capito bene però era diciamo integrare il letame insieme agli altri scarti vegetali invece di far maturare il letame da solo compatto integrare no no lui è contrario anche perché lui fa mi sembra in alcuni passaggi lo spiega anche che la letamazione spesso c'è una perdita di azoto di sostanze abbastanza grossa mentre invece praticamente tu fai prima uno strato vegetale poi uno strato di letame più piccolo rispetto al vegetale poi uno strato di letame piano piano si forma il cumulo ecco un cumulo forse ecco in alcuni casi invece di compost lo chiama cumulo e poi lasci il tempo di maturazione e poi praticamente hai già un pre-humus ok per esempio lui fa vedere come in Nuova Zelanda alcuni suoi seguaci fanno fanno quelle che poi sono diventate le compostiere moderne oggi ma le avevano pensate proprio a quei tempi se voi ci pensate sono un po' come quelle che noi proponiamo fatte con i pallet un po' più grandi se ho capito bene sono dei cassoni simili a quelli che proponiamo anche noi ne abbiamo fatti vedere tante volte sul Bosco di Redige uno dei primi al mondo a fare il riciclaggio nelle città della sostanza soprattutto dell'umido è stato Howard ma siamo parlando del 1940 in Inghilterra quindi è proprio il discorso della raccolta differenziata sì perché è una cosa importante non ci avevano la plastica è una cosa importante che la città restituisca tutti gli scarti organici altrimenti diventa un parassita addirittura un bandito ruba alla campagna invece deve restituire gli scarti dopo aver mangiato il cibo ecco vedete questo questo che ha fatto vedere Filippo adesso è praticamente un classico metodo di compostaggio Howard rispetto a questo non cambia molto se non che hai visto che lui ogni tanto butta una cestata poi ne butta un'altra ogni tanto ci deve essere una cestata di letame perché diciamo come attivatore è superiore al vegetale soprattutto diciamo vegetale secco che ha molto carbonio e poco azoto spesso rallenta un po' l'umificazione voi sapete che per esempio tutti quanti diciamo un campo di grano si raccoglie tutte le spighe e poi tutti i colmi finiscono a terra e diventeranno compost però essendo il grano molto secco praticamente prima che parte questa situazione ha bisogno essa stessa i microbi per attivarsi hanno bisogno di azoto quindi fondamentalmente è un rallentamento del ciclo naturale quindi probabilmente se tu ce l'hai sarebbe meglio mettere delle tame insieme per farlo partire in maniera più regolare oppure se no toglierlo e compostarlo con materiale più fresco e letame ok quindi insomma ce l'abbiamo anche noi quindi adesso dobbiamo reperire questo letame che è un po' più raro trovarlo io voglio sognare essere ottimista come Howard e quindi sogno un mondo dove gli animali domestici di allevamento non scompaiono scompaiono solo gli allevamenti intensivi e torniamo ad avere piccoli allevamenti sparsi nel territorio che ci forniscono anche il letame che ci serve magari per un orto possono bastare qualche gallino vagliola possiamo farlo con i nostri piccoli allevamenti quanto tempo è necessario per il cumulo secondo Howard molto poco se non sbaglio erano tipo sei settimane a prima fase poi sei settimane di maturazione vero? tre mesi mi sembra al massimo poi dipende pure dalle stagioni perché è chiaro che lui lo faceva in India e quindi la velocità era un po' maggiore perché una cosa è fare il cumulo d'inverno una cosa è fare il cumulo d'estate però diciamo con questi perché l'etame serviva tra l'altro proprio a velocizzare anche la lumificazione del cumulo e comunque dice la stessa cosa anche noi nei nostri video abbiamo spiegato fare almeno due contenitori quindi caricarne uno fargli fare la fase calda e dopo la prima fase lo si mette a maturare nell'altro contenitore e si ricomincia da capo insomma ci sia il tempo allora ciao Franci una domanda il cippato legnoso alla base del terreno delle piante ma diciamo il cippato legnoso viene usato più per una pratica quasi di pacciamatura no sapete la pacciamatura poi anche estetica per alcuni giardini eccetera perché è carino anche no è chiaro che umificherà anche il cippato legnoso no cioè tutto alla fine umificherà purtroppo anche Gianluca stesso umificherà però i tempi del cippato legnoso sono sicuramente lunghi quindi se tu lo fai come pratica solo di compostaggio allora è meglio semmai unirlo in una compostiera dove ci stanno sostanze più ricche di azoto più sostanze verdi e letame e vedrai che il cippato legnoso ci avrà dei tempi di ricomposizione abbastanza veloci basta che pensate quando cade una foglia in autunno no se passate tre giorni dopo la foglia non c'è più sì nel momento al massimo trovate i filamenti se piove perché se è tutto secco sì perché appunto il terreno lo digerisce quindi vuol dire che la sostanza organica c'è i microbi ci stanno sono loro che digerano chiaro che se te casca un ramo di legno se passate dopo tre giorni lo trovate se passate dopo una settimana lo trovate se passate dopo un mese ci vuole del tempo però poi scompare allora la domanda di Luca non l'abbiamo capita in realtà in realtà ha detto intendo come spiegava la decomposizione come Howard spiegava la decomposizione beh Howard la spiegava appunto partendo dai boschi faceva vedere come tutto veniva digerito dal terreno ma dal terreno umificato ma perché perché c'erano una serie di microbi nel terreno di tipo aerobico soprattutto batteri e successivamente funghi che attraverso una serie di passaggi decomponevano la sostanza organica che piano piano si appunto umificava prendeva questa consistenza molto quasi non d'olio di oleosa ma insomma molto morbida l'argilla forma dei glomeruli con l'humus no e praticamente migliora per esempio proprio a livello agronomico la qualità del terreno no una buona umificazione e quindi permeabilità assorbimento tutta una serie di cose e nello stesso tempo questa vita microbica migliora la micorizzazione delle delle radici delle piante la micorizzazione delle radici delle piante migliora l'estrazione dell'acqua dei minerali e di tutta una serie di sostanze che vanno alle radici e tra l'altro lui ha visto che attacchi parassitari alle piante ben micorizzate eccetera la pianta ha una serie di sostanze per difendersi da questi attacchi viceversa senza è molto più scarsa da qui quel discorso infatti fa un discorso molto interessante non so se l'hai letto sull'isola di Ceylon perché all'isola di Ceylon gli inglesi avevano all'inizio portato il caffè e e il caffè a un certo punto arrivò una malattia gliel'ha distrutta però c'è praticamente c'è stata una carestia mostruosa tra l'altro anche molti morti perché c'era l'economia portante di quell'isola stiamo parlando dei primi del novecento e lui è andato a vedere dopo chiaramente ha visto che il terreno e tutta una serie di situazioni e le spiega nel libro non erano idonne per quel tipo di cultura mentre invece portare il tè e il cotone cioè due piante che si prestavano per quel terreno tant'è che il tè di Ceylon è ancora oggi è abbastanza e tra l'altro va anche detto quando tu leggi il libro di questo tipo cioè capisci perché a Ceylon che era un'isola dove c'era la popolazione cingalese ed è la cultura buddista perché era l'isola inayana dell'antichità e tutto tratto sono arrivati i tamil e con la regione ci sono successi anche problemi politici eccetera i tamil l'hanno portati gli inglesi quando ha iniziato a portare tè e cotone in quantità perché c'erano bisogno in mano d'opera quindi cioè la storia dell'agricoltura è anche in gran parte storia dell'umanità senti ci sono tantissime cose adesso mi hai citato il cotone quindi ti devo chiedere una cosa sul cotone adesso il cotone che è diciamo la fibra fondamentale con cui facciamo una marea di cose è un problema sappiamo che inquina tantissimo la sua produzione viene utilizzata una marea di chimica però nel suo libro Howard spiega invece che anche per il cotone sarebbe tutto molto più semplice perché è anche una pianta che non non ha grosse richieste adesso vediamo un campo di quelli intensivi ma allora tanto per iniziare io credo che in India non è che Howard facesse campi piccolissimi di cotone probabilmente usava prima cosa delle varietà locali che si erano ben instaurate nella zona e seconda cosa umificava il terreno sfruttando poi la tradizione delle coltivazioni in zona chiaro che se portiamo varietà che spingono tantissimo che hanno bisogno di una marea di concimi e che magari forzatamente vengono portati in un territorio non proprio perfettamente idoneo poi dobbiamo offrire una serie di cure per risolvere una serie di problematiche insomma quindi io lo dico da agronomo a me ultimamente Ernesta tra l'altro lo sa mi hanno chiesto di dare una mano per una coltivazione di pomodoro da industria però il pomodoro da industria comunque richiede cioè per stare sul mercato perché il problema poi alla fine è sempre quello è l'economia cioè per stare sul mercato tu devi riuscire ad arrivare a determinate produzioni per arrivare a determinate produzioni devi spingere al massimo spingere al massimo vuol dire adesso chiaramente le concimazioni chimiche sono arrivati a livelli diciamo di dosaggi molto precisi però comunque devi fare 3-4 concimazioni chimiche devi fare tutta la difesa chimica devi insomma macchinari eccetera entri in un'agricoltura industriale che che non è facile io sto cercando di vedere se riesco a piazzare il prodotto come bio però spesso ci sono per dirti delle ditte che dici io lo faccio bio dice va bene va bene tu ce lo porti però ti pagano quanto quanto quell'altro quanto quell'altro il che è un problema perché ma poi quello che crea problemi è che se ne devono fare delle quantità enormi quindi si deve concentrare in un determinato spazio solo quella pianta insomma l'agricoltura industriale minimo devi fare 10-20 hectare altrimenti e quindi abbiamo la monocoltura e tutti i problemi che si porta presto sì 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 allora guarda esatto facciamoci gli orti nostri ci ricorda Filippo sì ok ognuno a modo suo in base alle sue purtroppo mi è capitato a me quest'anno allora senti ti voglio ancora leggere un paio di domande e poi parliamo di Liebic e guarda è la diretta più lunga che abbiamo fatto perché ci sono veramente hai talmente tanti contenuti tu insieme ad Howard allora ti ti leggo questa del list c'è questa domanda che io leggo un po' di terriccio di bosco nell'orto migliore della terra allora sicuramente però sarebbe vietato allora dovete pensare che praticamente i contadini lo sapevano da millenni e andavano a prendersi la terra di bosco con la cariola dagli orti solo cioè dai boschi per gli orti solo che alla fine distruggi i boschi il che non è cioè è chiaro che se parliamo di 500 anni fa in zone diciamo boscose dell'Italia si poteva far tranquillamente chi ti diceva niente avevamo migliaia e migliaia di ettari di bosco adesso i boschi sono diminuiti noi siamo aumentati e insomma non si può fare allora io spero che la soluzione a questo sia l'agroforestazione che noi stiamo studiando stiamo proponendo quindi poi era una delle proposte di Howard esatto quindi far crescere tanti alberi affilali dove si possono fare anche degli orti abbiamo anche un paio di video su questo argomento poi continueremo ad approfondire seguite il bosco di Ocigia comunque lì si potano il materiale legnoso in maniera diciamo artificiale si vanno a potare le piante si lascia a terra e facciamo creare quell'humus quindi ci vuole diciamo qualche anno per avviare la cosa però si potrebbe avere del terriccio simile a quello di bosco fatto direttamente nei nostri orti e campi l'idea di Howard era molto molto complessa perché lui diceva prima cosa in zone montuose l'agroforestazione diminuisce tutti i problemi di erosione eccetera eccetera e che noi in Italia siamo diventati insomma macello da questo punto di vista e ci sono non mi va di entrare dentro sta cosa perché ci sono fenomeni storici che sono un po' allungano ma mettere alberi d'alto fusto eccetera l'albero lavora la radice scende giù tantissimo quindi spacca il terreno quindi fa un lavoro che una pianta ortiva non potrebbe fare ok quindi lui consigliava addirittura di fare dei boschi per 30-40 anni arricchire di sostanze organiche a spaccare il terreno poi dopo 30-40 anni vai a fare la legna il bosco lo sposti e lì fai agricoltura perché c'è il terreno friabile chiaramente lui la vedeva molto in grande però ha senso quindi lo possiamo fare ci vuole di avere una visione insomma non volere il raccolto il mese dopo però si può fare e sì questo poi è il problema dell'agricoltura moderna che noi siamo abituati ormai a qualsiasi cosa che deve produrre per l'anno invece voglio dire i nonni mettevano l'albero da frutta sapendo che i nipoti avrebbero mangiato quel frutto insomma no oggi nessuno lo pensa più oppure uno o due insomma allora sì c'è l'istrice ce ne aveva fatta anche una te ne leggo te ne leggo entrambi allora ogni tre mesi rivolto tutto il cumulo della compostiera capovolgendo il contenuto chiede se è utile o se dovrebbe farlo più spesso e prima ci aveva guarda Howard era partito mi sembra con una volta al mese poi alla fine praticamente si è reso conto che si poteva anche accorciare l'importante è mischiarlo bene quando lo mettiamo cioè nel senso è chiaro che se tu mi fai tre quarti di cumulo tutto con sostanza secca e poi l'ultima parte con vegetale molto fresco eccetera lo devi mischiare subito perché se no se invece gli strati sono fatti bene insomma parte secca parte umida parte letame parte secca parte quale resti di cucina eccetera praticamente basta mischiarlo probabilmente come fai te ok va bene allora sempre l'estrice ci aveva detto che perché scartare a priori le feci umane e lui nel compost va benissimo l'urina Howard infatti lui non ne esclude adesso dobbiamo fare un po' un cambio perché siamo andati molto avanti in questo allontanamento dai nostri allora diciamo che quello delle feci umane adesso è mescolato un po' dal problema mettiamo sempre davanti il discorso scientifico malattia ma è un po' un tabù no? cioè se quando ne parliamo di uomo sono delle cose che sono un po' anticamente si faceva e se voi pensate al De Cameron De Pasolini De Boccaccio no? quando quello casca dentro casca dentro e le feci umane ma che venivano poi raccolte e portate nei campi non è che quindi mi diceva un amico mio abruzzese che i suoi nonni nelle campagne d'Abruzzo quindi fino agli anni 40 passava il caretto e poi portava no le feci sul caretto perché poi questo le portava in campagna quindi cioè non è che è una cosa chiaramente noi ci siamo come diceva Pasolini molto imborgesiti tra l'altro Liebig dice una cosa interessantissima perché poi Liebig in tarda età è come se se pentisse di tutto uno che è la nostra conclusione solo per il discorso feci umane lui dice dice l'Inghilterra corollerà perché ha inventato il water closet come Roma che aveva inventato la cloaca maxima giusto dice proprio così quindi attenzione è già successo allora Liebig chi era ricordaci perché è fondamentale Liebig è stato uno dei più grossi chimici praticamente lui oltre diciamo noi lo conosciamo solo per il dato da Brodo però fondamentalmente cioè ebbe questo impulso di dire cioè da chimico molto positivista se io alla pianta gli do le sostanze che lei usa la pianta vive bene insomma diciamo il massimo la chimica sarebbe fondamentalmente l'idroponica chimica cioè nel senso senza terreno e poi un po' come mettersi noi quando purtroppo uno finisce in ospedale la flebbo e stai attaccato lì insomma quindi diciamo lui chiaramente riuscì a capire delle cose quindi non è che fosse cioè lui riuscì a capire che l'azoto era la sostanza più importante delle piante quindi poi fosforo e potassio poi anche i macroelementi secondari che sono calcio e zolfo fondamentalmente e poi quelli più secondari tipicamente che sono pariferro rame eccetera 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 e fino al boro e altre sostanze comunque che cosa faceva alla fine della sua vita lui sì è praticamente l'NPK se vuol dire che l'ha inventato Liebig no ora però che è successo in tarda età lui capisce che poi capisce la cosa che ha capito che capì dopo Howard cioè capisce che ci sono delle leggi naturali lì c'è beh anche probabilmente una crisi mistica perché probabilmente si avvicinava anche alla morte insomma perché stiamo parlando di quel periodo lì però che ci stanno delle cose naturali e che come dire è un peccato i greci dicevano di ibris no cioè questa arroganza dell'uomo di voler sostituirsi alle leggi di natura la cosa bella di Howard è proprio questa che lui ti dice noi invece possiamo accompagnare le leggi di natura cioè noi compartecipiamo alle leggi di natura quindi la legge del ritorno la legge della riserva eccetera eccetera noi stiamo insieme mentre invece un certo tipo di agricoltura soprattutto per mentalità capitalistico industriale perché insomma non viene dall'agricoltura sulla mentalità è apportato a voler imporre però Liebig in tardetà capisce l'errore e dice proprio dice addirittura dice la 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 stessa lo stesso sole la stessa natura si si permette e oltretutto l'acqua che che all'interno con le piante purifica anche le sostanze tossiche presenti nel terreno cioè fa tutto un discorso diciamo da chimico che ha inventato il gran problema dei fertilizzanti chimici alla fine poi ritratta tutto e ripete la natura al centro probabilmente si è accorto che questa sua invenzione che magari era anche geniale quando l'ha pensata si stava imponendo come legge economica e e e avrà visto anche i danni che qualcuno sarà andato a raccontarli guarda che ci sono dei problemi secondo me a quei tempi i grossi danni non si vedevano ancora subito non si vedevano degli anni che stiamo parlando molto insomma allora facciamo rivedere ancora prima di Howard facciamo rivedere il libro di Howard lasciamo i link ricordiamo che c'è questo appuntamento il primo di aprile a Roma se persone vogliono venire a incontrarti abbiamo fatto tardissimo io voglio anche annunciare però che in qualche modo il discorso lo portiamo avanti la prossima settimana perché avremo il dottor Marotta ospite ce l'avremo venerdì prossimo lui con lui abbiamo fatto un sacco di puntate parlando del legame tra la salute e il suolo lui è un medico quindi la prendiamo dalla parte opposta dalla salute dell'uomo ritorniamo a quella del suolo però è veramente un tema importante tra l'altro si ricollega molto a quello che abbiamo detto stasera perché parleremo dell'importanza delle erbe spontanee cioè di tutti i nutrienti che troviamo nelle erbe spontanee quindi esattamente quello che alla fine ci racconta Howard dicendoci che appunto gli animali che si nutrono di quelle erbe stanno bene gli uomini che si nutrono di quelle erbe stanno bene infatti lui fa vedere come l'uso poi di prati pascoli da seme diciamo fatti apposta per il pascolo hanno risultati nettamente minori al prato pascolo naturale perché nel prato pascolo naturale essendoci tutte quelle erbe spontanee curano il bestiame molto meglio che un prato pascolo diciamo razionale ok dai grazie un'ora e mezzo abbiamo fatto il record assoluto grazie davvero in tutto interessantissimo secondo me le persone sono rimaste ad ascoltarci quindi penso che lo sia stato anche per chi ci ha seguito la diretta naturalmente rimane chi si è collegato adesso se la può rivedere dall'inizio un bel like aiutateci per così aiuta a diffondere il video a farlo vedere di più condividetelo con i vostri amici se trovate il tema interessante e basta ci vediamo con la diretta ci vediamo venerdì prossimo quindi il 17 di marzo ne facciamo una con il dottor Marotta grazie Gianluca buona serata a te grazie a te grazie a voi ciao buona serata a tutti